Isaia Astrup, il bambino inglese di 11 mesi affetto dalla nascita, da quello che i medici chiamano un catastrofico danno cerebrale causato da una mancanza d'ossigeno al momento del parto. Il piccolo, durante questi mesi, aveva mantenuto un barlume di coscienza, ma per i medici non c'erano speranze di miglioramento. Di parere diverso i genitori, che proprio per salvare il figlio, si sono appellati ai giudici per evitare che i medici interrompessero il trattamento nei confronti di Isaia. Da qui, come già avvenuto nei casi di Charlie Gard, morto il 28 luglio scorso dopo una dura battaglia legale, e di Alfie ricoverato a Liverpool, in attesa che i medici stacchino la spina come deciso dal tribunale, è ancora una sentenza a decretare la fine di una vita umana. L'unica differenza che emerge tra questi tre casi è che mentre per Charlie Gard si potevano tentare cure alternative, per Alfie e Isaia non esistono terapie oltre a quelle tentate sinora. A poco sono serviti i ricorsi dei genitori contro la sentenza del Tribunale di Londra. Nemmeno la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha dato loro ragione. Proprio ieri, infatti, è stato dichiarato inammissibile l'ultimo ricorso, quello che chiedeva di continuare il trattamento salvavite e di ribaltare così il verdetto dell'Alta Corte Britannica, secondo il quale il supporto vitale per il piccolo andava interrotto. Nel caso di Isaia, così come per Alfie, i giudici definiscono la ventilazione e la nutrizione assistite una forma di accanimento. Continuare a vivere, dicono i giudici, non è nel miglior interesse del bambino.